Come da progetto stilato per la costruzione della squadra, la priorità resta la difesa, un reparto che Novellino vorrebbe granitico ed esperto perché il suo 4-4-2 di fondo prevede sempre una linea Maggino capace di bloccare l'azione avversaria e ripartire di rimessa. Ecco perché nel summit di mercato, che Massimiliano Taccone ed Enzo De Vito hanno tenuto con Michelangelo Minieri, si è parlato principalmente di difensori. Il primo nella lista è Riccardo Marchizza, centrale classe 98 di proprietà della Roma, reduce dal mondiale under 20 disputato in Corea con la nazionale di Alberico Evani. L'affare è dato in dirittura d'arrivo, anche perché il club giallorosso ha gradito il lavoro di valorizzazione fatto con Daniele Verde. Non a caso l'alternativa al giovane, bravo sui calci piazzati, resta Elio Capodrossi, classe 96, sempre della Roma, rientrato dal prestito al Bari. Il summit con Minieri è servito pure per parlare con Luca Lezzerini, portiere della Fiorentina già in maglia bianco-verde dal gennaio di quest'anno. La dirigenza Viola è disposta a cedere l'intero cartellino dell'estremo difensore, ma prima di investire un euro Taccone e De Vito si confronteranno con Novellino. Il tecnico, che stima Lezzerini, ha messo in cima alla sua lista Uicani del Genova, rientrato dal prestito al Pisa. Il costo delle varie operazioni potrebbe avere il suo peso sulla decisione finale, anche perché entro i prossimi dieci giorni l'obiettivo è quello di completare il pacchetto al retrato con un altro centrale di esperienza. Un terzino destro da affiancare alla Verone e un sinistro da alternare a Rizzato. Per il centrale, scartate le ipotesi Pagliaruro e Troest, restano in lizza Leonardo Branchard, classe 88 del Carpi, e Lorenzo Ariaudo, classe 89 del Frosinone, che potrebbe lasciare la ciocciaria dopo la delusione della mancata promozione. Per il ruolo di terzino destro, invece, è arrivata la conferma che Balzano non si può verrà, almeno inizialmente, da Cagliari. I nomi più gettonati sono Tommaso Cancellotti, 25 anni della US Abbia, Alberto Almici, vecchia conoscenza di Lupi, che l'Atalanta girerebbe nuovamente in prestito, e Umberto Germano, classe 92 della Provercelli. Sulla corsia opposta restano in piedi dialoghi con la Roma, per Nicola Falasco, classe 93, che ha collezionato 11 presenze a Cesena, e Alessandro Longhi, classe 89 del Pisa. A proposito della società nerrazzurra, va segnalato il congelamento della trattativa con Francesco Di Tacchio. Con il metronomo c'è già un'intesa di massima, ma senza la cessione di paghera non ci saranno nuovi ingressi a centrocampo. Contrariamente alla volontà di Novellino, che vorrebbe scommetterci, Idris Camarà potrebbe lasciare l'Italia per sbarcare in Grecia. A cercarlo è stato lo Xanti Skoda.